Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio. Ricevuto un calice, rese grazie, disse, prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non verrò più del frutto della vita, finché non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi in un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione chi di loro fosse da considerare il più grande. Egli disse I re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande gli sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola. Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre mio lo ha preparato per me. perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. Simone Simone ecco Satana vi ha cercati per bagliarvi come il grano ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno e tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli e Pietro gli disse Signore con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte gli rispose Pietro io ti dico oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi poi disse loro quando vi ho mandato senza borsa né sacca né sandali vi è forse mancato qualcosa risposero nulla ed egli soggiunse ma ora chi ha una borsa la prenda e così chi ha una sacca chi non ha spada venda il mantello e ne compri una perché io vi dico deve compiersi in me questa parola della scrittura e fu annoverato fra gli empi infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento ed essi dissero signore ecco due spade ma egli disse basta uscì andò come al solito al monte degli olivi anche i discepoli lo seguirono giunto giunto sul luogo disse loro pregate per non entrare in tentazione poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso cadde in ginocchio e pregava dicendo padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo entrato nella lotta pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra poi rialzatosi dalla preghiera andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro perché dormite alzatevi e pregate per non entrare in tentazione mentre ancora egli parlava ecco giungere una folla colui che si chiamava Giuda uno dei dodici li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo Gesù gli disse Giuda con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo allora quelli che erano con lui vedendo ciò che stava per accadere dissero Signore dobbiamo colpire con la spada e uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro ma Gesù intervenno dicendo lasciate basta così e toccandogli l'orecchio lo guarì poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui capi dei sacerdoti capi delle guardie del tempio e anziani come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni ogni giorno ero con voi nel tempio e non mi avete mai messo le mani addosso ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre dopo averlo catturato lo condussero via lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote Pietro lo seguiva da lontano avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno anche Pietro sedette in mezzo a loro una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse anche questi era con lui ma egli negò dicendo o donna non lo conosco poco dopo un altro lo vide e disse anche tu sei uno di loro ma Pietro rispose o uomo non lo sono passata circa un'ora un altro insisteva in verità anche questi era con lui infatti è Galileo ma Pietro disse o uomo non so quello che dici e in quell'istante mentre ancora parlava un gallo cantò allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte è uscito fuori pianse amaramente intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano gli bendavano gli occhi e gli dicevano fai il profeta chi è che ti ha colpito e molte altre cose dicevano contro di lui insultandolo appena fu giorno si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli iscribi lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero se tu sei il Cristo dillo a noi rispose loro anche se ve lo dico non mi crederete se vi interrogo non mi risponderete ma d'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio allora tutti dissero tu dunque sei il figlio di Dio ed egli rispose loro voi stessi dite che io lo sono e quelli dissero che bisogno abbiamo ancora di testimonianza l'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca tutta l'assemblea si alzò lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re Pilato allora lo interrogò sei tu il Re dei Giudei ed egli rispose tu lo dici Pilato disse ai capi dei sacerdoti alla folla non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna ma essi insistevano dicendo costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui udito ciò Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e saputo che stava sotto l'autorità di Erode lo inviò a Erode che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme vedendo Gesù Erode si rallegrò molto da molto tempo infatti desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui lo interrogò facendogli molte domande ma egli non gli rispose nulla erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò si fece beffe di lui gli misi addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro prima infatti tra loro vi era stata inimicizia Pilato riuniti capi dei sacerdoti le autorità e il popolo disse disse loro mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo ecco io l'ho esaminato davanti a voi ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate e neanche Erode infatti ce l'ha rimandato ecco egli non ha fatto nulla che meriti la morte perciò dopo averlo punito lo rimetterò in libertà ma essi si misero a gridare tutti insieme togli di mezzo costui rimettici in libertà Barabba questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio Pilato parlò di loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù ma essi urlavano crocifiggilo crocifiggilo ed egli per la terza volta disse loro ma che male ha fatto costui non ho trovato nulla in lui che meriti la morte dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolte omicidio e che essi richiedevano e consegnò Gesù al loro volere mentre lo conducevano via fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui ma Gesù voltandosi verso di loro disse figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figli ecco verranno giorni nei quali si dirà beate le sterili i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato allora cominceranno a dire ai monti cadete su di noi e alle colline copriteci perché se si tratta così legno verde che avverrà del legno secco insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori quando giunsero sul luogo chiamato cranio mi crocifissero lui e i malfattori uno a destra e l'altro a sinistra Gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno poi dividendo le sue vesti le tirarono a sorte il popolo stava a vedere i capi invece lo deridevano dicendo ha salvato altri salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio l'eletto anche i soldati lo deridevano gli si accostavano per porgergli degli aceto e dicevano se tu sei il re dei giudei salva te stesso sopra di lui c'era anche una scritta costui è il re dei giudei uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava non sei tu il Cristo salva te stesso e noi l'altro invece lo rimproverava dicendo non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male e disse Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno gli rispose in verità io ti dico oggi con me sarai nel paradiso era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio perché il sole si era eclissato il velo del tempio si squarciò a metà Gesù gridando a gran voce disse padre nelle tue mani consegno il mio spirito detto questo spirò è Grazie. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo, veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo. Ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed eccovi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore Vogliamo lo Spirito Santo perché come fuoco scenda su di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Vieni, Padre dei cuori. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli e solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ringraziamo carissimi la Santissima Trinità che è al centro di tutto, di questa liturgia, al centro dell'universo, al centro di questo Vangelo, al centro di queste letture. La Santissima Trinità che è infinitamente al di sopra di tutto quello che noi possiamo pensare o dire o comprendere, in certo modo, della Trinità stessa. E vedete che i Vangeli di oggi, la passione del Signore, ci dicono innanzitutto una cosa fondamentale riguardo alla Trinità. Cioè che la Trinità è realtà, finitamente super reale e noi siamo ciechi. Oggi lo dobbiamo dire con più forza, siamo da noi stessi ciechi, da noi stessi siamo morti, da noi stessi siamo malvaggi. E appunto da noi stessi siamo capaci di crocifiggere e di odiare Cristo nella maniera più terribile, cari fratelli. Quando noi, vedete, oggi la Trinità ci chiama a meditare la passione. E in questa passione noi vediamo essenzialmente due gruppi. Da una parte quelli che crocificano Cristo e dall'altro Cristo e i suoi pochissimi seguaci. Ebbene, cari fratelli, rendiamoci conto che da noi stessi siamo crocifissori di Cristo. Da noi stessi siamo come Giuda e forse anche peggio di Giuda. Da noi stessi siamo così, da noi stessi siamo capaci proprio di gridare. Avete sentito? Durante la lettura ho alzato la voce proprio per gridare. Quando la parola di Dio diceva che questi personaggi gridavano, no? Allora siamo capaci di gridare, che sia crocifisso Cristo. E questo vale per ciascuno di noi. Ricordatevelo bene, da noi stessi siamo brutte bestie, ognuno di noi. Quindi non inventatevi di essere chissà che. Perché siamo tutti da noi stessi brutte bestie. Siamo tutti morti come Lazzaro spiritualmente, da noi stessi. Se siamo vivi è perché Dio ci dona la vita, cari fratelli. Dio ci dona la vita fisica, Dio ci dona la vita spirituale, se la accogliamo, cari fratelli. Allora, vedete, da noi stessi siamo crocifissori di Cristo. Siamo peccatori perché tutti i peccatori hanno crocifisso Cristo. D'altra parte la Trinità però ci vuole portare a seguire Cristo. Ci vuole donare la sapienza della croce. Per questo, vedete, la Trinità ci porta a meditare la passione. E vedete che meditare la passione è un esercizio molto importante, che va fatto bene. La passione ci parla innanzitutto della Trinità, ricordatevelo. Poi, di che ci parla la passione? Ci parla della sofferenza di Cristo o no? Ci parla del Paradiso. Perché? Perché il fine della passione di Cristo è il cielo per noi, cari fratelli. Noi dobbiamo avere chiaro che il nostro fine ultimo non è la passione, ma è la gloria del cielo. Quindi, vedete, noi dobbiamo meditare bene la passione. Come si medita bene la passione? Partendo dalla Trinità, passando per il Paradiso e poi, appunto, per andare in Paradiso. Ecco, l'unica via è la croce, cari fratelli. L'unica via per andare in Paradiso è la croce. E non vi illudete, lo dicevo l'altro giorno. La sofferenza non la sfuggite voi e non la sfuggo io. Quindi, o la prendiamo qua giù la sofferenza, anche con la penitenza, oppure la sofferenza ci aspetta al purgatorio. Ma il purgatorio è molto più terribile che qui, eh? Attenzione! E poi, non sappiamo se andiamo al purgatorio. Potremmo andare anche all'inferno. E allora la sofferenza sarebbe eterna. E sarebbe, appunto, cari fratelli, al di là di ogni immaginazione. Attenzione! Tante volte noi vogliamo scansare la sofferenza in questo mondo, eh? Non va bene! È un'illusione! Chi la scansa qua, se la prende dopo. Quindi è tutta una risata del diavolo. Quando la gente vuole scansare la croce, il demonio, quando voi dite, eh, ma perché arrivano le sofferenze, io non le voglio... Il demonio ride, bravo! Continua così! Continua così e mi tiro e ti tirerò giù con me all'inferno e poi vedrai come si soffre. Cari fratelli, non vi fate illudere, eh! Il mondo questo ci vuole far pensare. Ma tu te la puoi sfangare la sofferenza e vai magari anche in paradiso. Non è possibile, ricordatevelo bene, toglietevi dalla testa quest'illusione. O soffrite bene qua e non soffrite di là, o soffrirete molto di più di là. Attenzione, eh? Perché la gente incompetente o proprio ignorante pensa che al purgatorio si sta meglio di qua. La sofferenza del purgatorio. La sofferenza del purgatorio è molto più terribile di quella di qua giù. Quindi Dio voglia che soffriamo qui per bene e non soffriamo di là. E ricordatevele bene queste parole, care sorelle e cari fratelli, eh! Svegliatevi! Non vi illudete! Non vi illudete! Adesso vedete, io vi faccio la risatina. Il demonio ve la fa quando voi volete scansare la croce. Fate gli intelligenti. Non siete intelligenti quando scansate la croce. Ricordatevelo! Siete stolti! Ricordatevelo, eh! Ricordatevi queste parole. Gesù non ha, non ha deviato dalla strada della croce, cari fratelli. E Gesù era sapiente, eh! Era molto più sapiente di noi. Quindi attenzione, cari fratelli. La passione, guardatevelo, la passione è gloriosa. Il diavolo vi vuole far pensare il resto, il contrario. La passione è elevante. La passione è vittoria. Dio ci chiama a passare per questa strada gloriosa, elevante e vittoriosa. Ricordatevelo bene, eh! E poi dovete riflettere una cosa che tante volte non si dice. Cioè, tutta la vita di Cristo fu croce e martirio. Tutta la vita di Cristo, anche l'ultima cena, fu croce e martirio. Ricordatevelo bene, cari fratelli, eh! Croce e martirio e beatitudine, eh! Più noi entriamo a fondo nel mistero della croce, eh! Più andremo in alto in paradiso e staremo beati e più siamo uniti a Cristo in questo mondo sulla croce, più possiamo gustare la beatitudine già in questo mondo, cari fratelli. Già in questo mondo, almeno in certi momenti. I grandi mistici che si erano uniti profondamente alla passione di Cristo venivano gratificati da Dio con momenti di paradiso già in questo mondo, molto, ma molto, ma molto più pieni di gioia, di felicità, di tutta la gioia che vi può dare il mondo, eh! Tutta la gioia che vi può dare il mondo, la felicità di questo mondo che il mondo vi può dare, ammesso che ve la possa dare, eh! Perché se Dio vi chiama a morire, il mondo non vi può dare niente. Ma, vedete, tutta la gioia che il mondo vi può dare, la felicità che il mondo vi può dare, è nulla di fronte a questi assaggi di paradiso. E poi, cari fratelli, dobbiamo meditare una cosa molto importante, eh! Oggi la Chiesa ci fa meditare la passione di Cristo, ma nella passione di Cristo c'è la passione della Chiesa, la passione dei Santi e la passione dei Martiri. E questa anche noi dobbiamo meditare se vogliamo conoscere a fondo la passione di Cristo, la passione e la sofferenza di tanti Santi e soprattutto di tanti Martiri, cari fratelli. Vedete, la croce, abbiamo detto che è gloriosa, elevante, vittoriosa, ma è anche piena di fecondità spirituale. La nostra santità, la nostra vita spirituale, sgorga dalla croce. Tutti i miracoli di Cristo, come io vi ho detto sempre, sgorgano dalla croce. La croce è la fonte di ogni benedizione. Quando voi ricevete i sacramenti, ricordate che i sacramenti sono tutti legati alla passione di Cristo. Vedete come la passione è la fonte di ogni benedizione. Ricordiamocelo bene questo, cari fratelli. Se voi avete la consolazione dello Spirito Santo, questa viene dalla croce, cari fratelli. Vedete come è ricca la croce, come è preziosa la croce, cari fratelli. Vedete, noi ci troviamo oggi nella Santissima Eucaristia. Ebbene, l'Eucaristia è un sacramento ed è unita la passione. E questo sacramento ci unisce proprio in maniera particolare a Gesù. Attraverso questo mistero dell'Eucaristia, la Trinità ci trasforma in Cristo, ci deifica, perché la croce, cari fratelli, in fondo in fondo, è mistero di deificazione dell'uomo. Il mistero della nostra sedificazione è il mistero di croce, cari fratelli. L'Eucaristia, appunto, ci unisce alla croce. Attraverso l'Eucaristia, la Trinità, appunto, ci dona la forza per unirci in una maniera più perfetta alla croce di Cristo. E la Trinità, attraverso l'Eucaristia, ci trasforma in Cristo crocifisso. Perché? Perché come attraverso Cristo crocifisso, perché tutta la sua vita è stata croce e martirio, eh? Attraverso Cristo crocifisso sono venuti a noi tutte le benedizioni, ecco, cari fratelli, attraverso la nostra unione con Cristo, Signore possa benedire in maniera particolare il mondo dei nostri tempi. Perché, cari fratelli, più siamo uniti alla passione di Cristo, più Dio può fare meraviglie nella nostra vita. Tutti i miracoli, le meraviglie di Cristo, le conversioni che Cristo ha operato si sono realizzate attraverso il mistero della sua passione. E noi, se vogliamo veramente portare Cristo alle anime, dobbiamo salire con Cristo sulla croce, perché è proprio in questo mistero di fecondità spirituale che noi diventiamo strumento di Dio per la salvezza del mondo. Allora, cari fratelli, ringraziamo Dio che ci ha chiamato alla Messa, impegniamoci a viverla oggi nella maniera più perfetta, perché veramente la Trinità ci possa trasformare in Cristo crocifisso e possa fare meraviglie straordinarie di santità, meraviglie straordinarie appunto attraverso la nostra vita. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. ci piore sempre, nei secoli dei secoli, amen. E facciamo una preghiera anche a San Michele Arcangelo, perché ci doni di... ecco, alla fine poi di questa Santa Messa, voglio dire, alla fine di questa omelia, ho elevato a Dio una preghiera a San Michele Arcangelo, perché con la sua intercessione ci ottenga da Dio di trionfare su tutte le insidie con cui il demonio cerca di allontanarci dalla croce. il quale non ci vuol far passare per la via della croce in tutte le forme, cerca di farci girare la larga. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del diavolo. che Dio eserciti il suo dominio su di Lui, te ne preghiamo supplichevoli, e tu, Principe della Milizia Celeste, per la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo per perdere le anime, amen.